... Vi ringrazio di essere qui in questa bellissima piazza. Questa è l'apertura del 52esima edizione del Festival Internazionale Musica da Camera che quest'anno non sarà solo musica da camera ma sarà jazz, sarà dedicata anche alle percussioni, sarà dedicata ai giovani, sarà dedicata anche a scuole di grandissimo livello come la scuola di Fiesole e tante altre novità che magari successivamente potremo discutere. Ecco, volevo intanto valorizzare al massimo la collaborazione che anche quest'anno abbiamo avuto con il Lions Club Host d'Imperia, ecco, che collaborano con Cervo da tanti anni. Sono molto contento di questa opportunità che il Comune di Cervo ci ha concesso. Sono anni che noi collaboriamo col Comune di Cervo per la riuscita di questa manifestazione. Siamo molto contenti che oggi la sala sia gremita. Mi appello a tutti i Lions presenti sul territorio d'Imperia, delle vicinanze, di partecipare a tutti i concerti che il Comune di Cervo organizza, perché sono dei concerti molto belli e servono anche per valorizzare il turismo locale. Cervo è una bellissima cittadina che va valorizzata ed è per questo che il Club Imperia Host da tanti anni va in trasferta in quel di Cervo per cercare di dare il proprio contributo alla manifestazione organizzata dal Comune e poter, con i servizi che fa, contribuire e collaborare col Comune per dare alcuni materiali allo stesso Comune. Quest'anno abbiamo intenzione di terminare il parco giochi dei bimbi del Comune di Cervo. Walter, credo che sia, visto questa nostra collaborazione, lui l'artefice ha portato una novità, una innovazione. Quest'anno diciamo che per il Festival di Cervo si è ringiovanito, è di nuovo l'anno zero, bisogna modernizzarsi. Vedo con molto piacere che la sala è molto grammita e mi fa molto piacere. Per me è fondamentale perché il turismo di oggi non è più quello del singolo campanile, quindi le collaborazioni sono assolutamente imprescindibili e importanti e bisogna trovare delle idee in modo tale che il pubblico attento, colto, venga effettivamente presso le nostre location, che quest'anno tra l'altro saranno tre. Una è la classica, la piazza dei Corallini, dove siamo, l'Oratorio di Santa Caterina, che è una chiesa romanica del 1200, meravigliosa, e il Parco naturale del Ciappà. Noi appunto accogliamo anche altri comuni, in questo senso, proprio perché c'è la possibilità di altre collaborazioni, ne abbiamo sottoscritta proprio una in questi giorni, col Comune Limitrofo, tramite il concorso del Rover d'Oro di San Bartolomeo, dove collaboreremo insieme. Penso che questo sia un inizio, una novità assoluta per questo ponente ligure. Vorrei aggiungere che comunque il Lions Imperia Osta starà presente anche il 2 di agosto. è un giovane musicista, mi risulta che sia la prima volta che viene in trasferta nel nostro paese, quindi noi siamo vicini anche ai giovani. Vorrei anche ricordare che comunque il club Imperia Osta e tutti i Lions svolgono un'attività di aiuto anche alla collettività, quindi non è che facciamo soltanto cultura. Quindi quando tutti i cittadini vedono manifestazioni che organizzano i Lions, devono sapere che sono quattrini che raccogliamo per lasciare sul territorio. Ci tengo a precisarlo perché il Lions Imperia Osta è molto impegnato sul territorio e già dico oggi con un notevole anticipo che per Olio Oliva saremo presenti con il nostro camper per fare la prevenzione sulle malattie. Quindi dei check-up gratuiti che mettiamo i nostri medici volontari a disposizione di tutta la cittadinanza. Quindi i club dei Lions fanno tante cose, fanno sia funzioni di aiuto alla collettività ma anche sono vicini alle istituzioni e credo che il connubio tra istituzioni e club Lions sia una cosa molto bella. Quindi invito, ripeto, tutti i cittadini di essere presenti in massa alla Piazza dei Corallini di Cervo e anche al Palo del Ciappà perché quest'anno ci sono delle grosse sorprese da parte del Comune. Il Comune quest'anno fa sul serio, aiutiamo la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione a crescere e a migliorarsi perché abbiamo bisogno di tanti turisti. Per avere i turisti dobbiamo dare anche i servizi. Credo che questa manifestazione che secondo tutti è, dopo il Festival di Cervo, la manifestazione più importante sul territorio, credo che ci debba essere l'aiuto di tutti. Quindi amici Lions, cittadini, venite in massa a Cervo. Grazie. Io ringrazio e vi invito veramente a venire a Cervo e non dimenticherete questo posto e sarà sicuramente un piacere per tutti voi. Io vi ringrazio. E per concludere, questo è il nostro banchetto con le ragazze Leo che ci danno una mano alla buona riuscita del service. Sono giovani volontari, ragazze che hanno voglia di dedicarsi ad aiutare il prossimo e collaborano in modo molto intenso con noi Lions. Quindi invito tutti i cittadini che quando i ragazzi Leo fanno una raccolta di fondi lo fanno solo a scopo benefico e a favore dell'intera collettività. Grazie. 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 Grazie.